Io questa settimana non ho seguito, come vi ho detto, per tanti motivi, quello che si è detto a livello generale, perché ho tante cose da fare in campo e poi per scelta personale cerco di evitare di informarmi troppo. Parlo per me, noi abbiamo fatto quello, il minimo, a un certo punto, quando ho capito che il rischio poteva essere quello che mi sta dicendo lei, io dopo la partita di Udine ho detto questa è l'ultima volta e farò valutazioni, poi è chiaro, ti ci portano, ti fanno vedere delle immagini, qualche parola ti può sfuggire, fai capire che in quella partita secondo te ci sono stati degli errori, ma io personalmente non abbiamo fatto da parte nostra tante cose da un po' di tempo a questa parte. Io parlo di noi addetti a lavori all'interno dell'Inter, non ho visto granché, quindi quello che fanno gli altri poi non è il nostro controllo. Non lo controlliamo noi. Io guardi, purtroppo è normale, in questo mondo c'hai quelli dalla tua parte e la vedono in una cosa, quelli che hanno interesse contrario la vedono in un altro, ma si sa che è il gioco delle parti, no? Però se mi aveste seguito con attenzione, io commentavo la Moviola obiettivamente così, cioè non è che erano proteste, era dire c'era rigore, per dire dopo Firenze, mi hanno detto, anche se era nel momento in cui non avrei potuto o non commentare, era fuorigioco, era fuorigioco, cioè cosa ne pensa? È fuorigioco o no? Poi ho capito che anche questo, detto da un allenatore di un club, viene strumentalizzato e ora viene fuori dalla protesta, allora è meglio detto, stiamo zitti, non si può più di nulla, diciamo nulla. Ho provato anche questa strada, non so qual è più giusta o meno, vedremo. Grazie.